C'erano i colleghi carristi, i familiari, i rappresentanti delle istituzioni, ma anche i semplici cittadini di Viereggio, insomma tutti quelli che gli vogliono bene. È stata una festa emozionante e sincera, quella organizzata alla Cittadella del Carnevale per i 90 anni di Arnaldo Galli. Voluto e organizzato da Fondazione e Comune di Viereggio, al compleanno hanno partecipato tanti personaggi legati al Carnevale, come Adolfo Lippi che ha tracciato il profilo artistico di Arnaldo Galli, non solo carrista ma anche pittore. E poi tanti regali dal Comune, dal nipote Fabrizio, fresco vincitore, e dal maestro Giorgio Michetti. Una festa sincera che Arnaldo Galli ha apprezzato moltissimo. Non pensavo che mi facessero una cosa del genere. Ma con tutti questi quadri, con tutti questi cari che hai fatto, ci in casa sempre andare a pescare, ci vuoi sempre? Ora sono un po' malmesso. Come sei malmesso? I pesci sono lì che ti aspettano. Appunto, devo andare sul molo, è un anno e mezzo che non ci vado e questo mi fa mancare tutta quella fantasia. Perché io quando ero sul molo, magari divertivo a pescare, però pensavi, studiavi. Quando arrivavi a casa? Io in un quarto d'ora facevi. Allora arrivai sul molo perché abbiamo bisogno ancora delle tue ispirazioni. No, bisogno anch'io.